play tag social web radio questo film di giuseppe trematerra anche antonio palma detto toni come dicono tutti toni buongiorno finalmente di persona finalmente mi ha invitato dopo 30 anni no 30 anni non è possibile 30 anni hai ragione perché io ho 18 anni all'epoca avevo 18 e 30 48 ci siamo ogni tanto faccio un po di teatro ma ci mancherebbe senti toni abbiamo già detto l'altra volta in un momento in cui di lockdown in cui è stato un po tutto fermo questi film a maggior ragione se partono dalla nostra regione sono un segno di vitalità un inizio un inizio sì infatti questo film è iniziato prima del di questa situazione però poi dopo guarda nel momento che doveva uscire è stato bloccato fortunatamente sta andando bene sulle piattaforme quindi a noi fa piacere così non appena che arriverà liberamente insomma speriamo che continueremo i questi stessi consensi allora intanto diciamo per per le nostre amiche che sono qui per chiara e per maria benissimo per dire chi è toni palma facciamo un po un discorso ma io lo so già però lo seguo da molto tempo è una mia fans io ho anche a casa una cartolina con il suo autografo annunzio va bene di cinque anni fa fa vabbè figlio adesso giusto per per dare ogni tanto un input di sfottofa no è vero io ce l'ho ancora io potrei anche chiedere la cartolina però in secondo me sì sì la porterò qui è una carissima amica come stivo da tanti anni senti intanto possiamo dire che toni ha sempre avuto la passione per per la recitazione da piccolo da piccolo ho incominciato leggo non so il centro studi d'arte luigi sì a 14 anni io incominciai lì perché degli amici sai all'epoca si usavano c'era di moda quei quei complessini bit no ricordati allora io conobbi degli amici dove poi tra l'altro suonava anche mio fratello la chitarra era un valido professionista è uno di questi amici miei un batterista ricordo ancora di stettoni conosco un centro studi d'arte dove appunto oltre ad essere anche un maestro di diciamo così di musica che era una persona eclettica il fu ormai luciano luisi chi mi ha plasmato ecco disse però lui fa anche recitazione edizione perché non vieni lì non appena mi andai in quello studio scatto quella cosa io dissi ma anche lui disse ti vedo molto bene come volto come e da lì incominciai poi questa mia vidi che ero portato per la recitazione quindi incominciai a fare teatro con lui teatro e trent'anni di esperienza abbiamo detto perché ho fatto teatro con lui da quattordici anni fino a vent'anni no perché poi dopo ci fu una 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 parentesi nella mia vita come tu sai no come tutti sanno voglio dire a capa di dirvi a parte a parte tu hai fatto un lavoro insomma hai anche lavorato ovviamente in un altro anno in tutto un altro anno nella pubblica amministrazione perché è lì che ci fu poi la la svolta che io a vent'anni poi riuscì a vincere un concorso statale e allora sai però c'è stato un legame comunque poi tra il cinema e la tua professione il tuo lavoro sì sì poi dopo successivamente quasi all'apice della mia della mia carriera quando ho lavorato poi dopo tanti anni che appunto ho lavorato nella zona del Salernitano e di cui anche a Cava dei Tirini altrimenti non 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 diventavo un cavese poi peraltro anche da adozione ma con molto con molto affetto e con molto e con molto piacere e capitò che appunto gli ultimi cinque anni della mia attività appunto l'andai a despedale proprio a Napoli e lì proprio il mio capo ufficio sapendo che io facevo teatro e altre cose disse Tony vai a Piscinola perché stanno facendo dei casting della squadra disse vai là andai la io feci sto casting e per poco poi non non avevo la fortuna pure di di essere diciamo così anche ingaggiato a livello di produzione perché poi dopo non so se si può dire per radio mi passo davanti il solito il solito ma no c'è il raccomandato amico esistono i raccomandati ah l'hai detto tu esistono i raccomandati mi passo davanti qualcuno Tony potresti dire che in Italia vanno avanti i raccomandati sì sì ma infatti io lo scomento solo in quell'anno chiaramente allora disse Tony non ce l'hai fatta però la produzione vuole che tu fai parte del progetto sarei comunque un elemento della squadra farei parte della squadra però era in un modo diverso dall'agenzia e no dalla produzione era ben diversa era ben diversa continueremo a raccontare a raccontare Tony Palma tra poco abbiamo una un po' di musica Tony ci sarà con noi un po' di tempo per rimanere con noi perché noi alterniamo tu conosci la nostra emittente alterniamo notizie abbiamo collegamento e tu stai con noi parteciperà anche al nostro almanacco musicale posso partecipare a quello che vuoi come la tua cosa sai cantare Tony? no cantare proprio no posso ballare di qualche cosa ma cantare no però lei ci fa anche cantare poi c'è l'almanacco musicale dopo lo vedremo ragazzi tanti auguri al grande maestro che oggi compie 70 anni oggi compie 70 anni De Crescenzo ieri Vasco ne compieva 69 oggi De Crescenzo 70 o invecchiano loro e sono veramente dei grandissimi autori De Crescenzo quella ancora è una canzone che ha veramente credo una delle più belle canzoni italiane poi dopo mi vi interrogherò lo sapevo io pensavo che ce l'avevamo scansato noi siamo sempre in attesa di un collegamento mentre con noi è sempre Tony Palma abbiamo caro Tony tu mi dici mi hai scoperto e mi hai richiamato dopo 30 anni tu hai cominciato al teatro se non ricordo male da quello che ho letto nel 1970 non ero ancora nato Tony ma poi non ero ancora venuto a cava io e io non ero nato ancora quindi non potevamo sapere nel 1970 al teatro Cilea a Napoli tutta una serie di ricordi proprio la tua prima volta che hai messo piede nel teatro il tuo primo la prima battuta sì fu una delle cose epiche perché il maestro appunto Luciano Luisi scriveva delle cose non napoletane le cose molto epiche esoteriche lui infatti era uno studioso di esoterismo quindi tutte le cose sai orientali erano anche anche la cucina lui amava già all'epoca la macrobiotica quindi usava tutte delle cose particolari all'epoca per me era una novità era una rivoluzione cose strane quando andavo da lui quando lui era abituato a mangiare soli i maccheroni e bass la da lui vedevo certe cose particolari adesso invece sono cose che tutti quanti vanno vanno alla alla ricerca no e ti ripeto fu al teatro cilea appunto mandammo in onda il re Artù lui aveva piacere sì sì io facevo uno dei cavalieri della tavola d'onda Guven il cavaliere Guven non mi ricordo ancora sì una spadaccina così spadaccino pistole nella tua carriera no vabbè no dico quello che abbiamo visto spesso in televisione abbiamo visto sempre hai un volto quasi sempre da come dire cattivo investigatore passo dalla legge alla guarda e ladri puoi fare sia la guarda che il ladro poi il dottore adesso però è un dottore particolarmente del caso Salice è un dottore però che voleva anche lui la sua la sua parte diciamo così vedi ci sta qualcosa io ho qualche foto anche ho qualche foto che Francesco mette in onda soltanto che quella valigia qui hai fatto una brutta fine il dottore fa una brutta fine in realtà infatti poi mi uccidono appunto perché qua vedi purtroppo non sono veri però sto contando vedi perché andavo in quella queste sono alcune foto tratte dietro le quinte insomma del caso Salice sono già foto con delle scene chiaramente poi non c'è l'altra perché sono non possiamo mostrare non possiamo mostrare quindi a loro in questo caso sono solo delle immagini mie però sono scene la mia scena insomma ecco senti adesso lo possiamo lo stiamo dicendo prima ci hai raccontato un aneddoto dietro le quinte insomma adesso il grande Luigi De Filippo che non c'è più insomma guarda per me veramente era la prima volta che mi avvicinavo a un De Filippo e non ti nascondo nonostante la mia età la mia esperienza fu qualcosa di particolare insomma mi sembravo proprio un bambino sai alle prese veramente ti dà un bel effetto insomma stare vicino a un personaggio di quel calibro Tony velocemente come l'Arcuri ecco un voto all'Arcuri da 1 a 10 un voto all'Arcuri ma molto rispetto a che cosa non è che mi ha entusiasmato molto è una persona molto esile chiaramente per quello che vedo dall'inizio da quello che si vede dall'esterno però non mi entusiasmato era molto più bella come donna Barbara De Rossi molto più donna Barbara De Rossi che l'Arcuri ci ricolleghiamo al cinema ciao 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 Manuel Arcuri che non ci saluterà più insomma no 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 ciao Manuel Arcuri che non ci saluta più lo farebbe in maniera più elegante però vedete questo bacio insomma ok E allora fu così che anche oggi inizia che anche oggi è il momento temuto da me perché no perché io partecipo al gioco l'ha aperto sempre allora 8 febbraio 8 febbraio 1951 nasce a Napoli come abbiamo già detto il cantatore Edoardo De Crescenzo è notte alte sono sveglio e poi e non ricordo una parola è un'altra è un'altra no poi e questo non è uno a zero per noi no non uno a zero ce ne sono ancora altre famose le mani le maniche e poi naviganti come naviganti 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 e poi ancora ma no abbiamo detto una canzone no no una canzone oggi è il compleanno di Edoardo De Crescenzo tanti auguri a te tanti auguri sai dove è nato De Crescenzo? no nasce in un quartiere popolare a ridosso della ferrovia di cui poi ci racconterà molte delle sue canzoni la sua famiglia è una famiglia ricca di temperamento artistico pensa un po' lo zio Vincenzo De Crescenzo un poeta autore di grande spessore e tra l'altro anche autore della mitica canzone Luna Rossa ma non ti ha chiesto se la conosci stavolta quando te lo chiede e ti chiede di cantarla Luna Rossa no non vale è conosciuta dai andiamo avanti questo almanacco 1 a 0 vabbè ti accontento 1961 Milva debutta nella hits parade con Il mare nel cassetto il mare è stato messo nel cassetto non l'abbiamo tirato fuori ancora però tu ricordi il mare nel cassetto appena ritorna la stagione vi aiuto 1963 Rita Pavone è prima in classifica con la partita di pallone perché perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone perché perché la domenica mi lascio solo a me intanto non so sta vincendo Maria 0 guarda se lui prevale con questo vocione la cantata anche Tony dai 1969 scende la pioggia di Gianni Morandi è il brano più venduto in Italia come fa scende la pioggia ma che fa ma crolla il mondo torna a me guarda guarda avete Tony che mi sta dando la mano mi sta muorendo me le ricordo e non me le ricordo però sono bella come hai conquistato con quale canzone hai conquistato tua moglie no sinceramente all'epoca c'erano le canzoni dei dei Poo dei Poo di Poo quale quasi tutti stuzzichi stuzzichi Chiara sì assolutamente i Poo sono tutte belle Dio delle città ma non si abbiamo chiesto e dell'immensità non si abbiamo chiesto di fare il focchinetto Chiara questo è il gioco di Nunzio lui le canta tutte poi 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 1971 luna no no basta 1971 Mina incide io e te da sole io e te da sole come non me la ricordo non me la ricordo non me la ricordo non me la ricordo quella proprio eh ci sta però c'è 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 che punto hai stabilito fino ad ora Chiara e Nunzio ragazzi però le sta cantando voglio solo controllare Francesco controlliamo il pc di Nunzio controlla il pc non c'è niente tranquillo vi aiuto passiamo agli anni 80 anni 80 vediamo 1980 c'è tutto un mondo intorno dei Mattia Bazar e debutano in classifica proprio con questo c'è tutto un mondo intorno di Mattia Bazar non mi ricordo il non ci ricordiamo il motivetto c'è tutto un mondo non ci puoi aiutare con tipo tipo un nananà no 2002 liga liga bue facciamo un salto liga bue 2002 non c'è tempo per noi non c'è tempo non è questa non c'è tempo liga bue primo in classifica con questa è la mia vita questa è la mia vita è vero meno male non è il mio preferito liga bue 2013 Neffa è in vetta alla top 10 di Irwan con molto calmo devo stare devo stare molto calmo devo stare molto calmo la cosa è molto calmo molto calmo ragazzi grazie questo è il massimo questo è il massimo l'ultima vediamo se in domini alcuni che non mi piacciono dei tagli proprio non mi piacciono dei cantanti non mi ricordo le canzone è giusto 2016 Emma debutta in classifica con Arriverà l'amore Arriverà l'amore non è arrivato l'amore a me è arrivato prima quindi in 2016 in realtà è arrivato mio figlio in 2016 ragazzi anche per oggi all'armanacco musicale siete bocciati come bocciati ma come abbiamo cantato 24 canzoni non ho bocciati non ho bocciati ne hai cantate solo quelle di De Crescenzo più famose magari fai una cosa fai la prova finale chiedigli una canzone chiedigli chiedici insomma una canzone una canzone di De Crescenzo io ce credo da che cosa ci credi è De Crescenzo chiaro ma cosa credi che notte alte sono sveglio è sempre quella io conosco questo e le mani le mani è finito io ce credo è una canzone di Edoardo De Crescenzo comunque il maestro De Crescenzo quando sarà qui con noi sul nostro palco tanti auguri da Radio Playtag auguri maestro auguri maestro auguri Playtag social web radio di nuovo in studio non è finita mica qui la puntata abbiamo ancora tanto abbiamo ancora 40 minuti circa ci sono ancora cose che bollano in pentola intanto è arrivato mezzogiorno e ho fame ma come è arrivato mezzogiorno e ho fame ho fame il salumaio che è il viale benedetto gravagnolo ci ha portato i panini io Franco il salumaio Franco Franco Simone li salutiamo ma grazie per questi doni è arrivata l'abbe fan ecco se volete scusa me ne fai aprire uno non sei in grado neanche di aprirlo io me ne prendo uno allora sei chiamata lo 089 28 63 089 voi chiamate loro vi preparano delle colazioni meravigliose è calda mettila sono mie sono tutte cose mie devo mangiare io il nostro ospite no 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 grazie non prendo ancora io devo mangiare sono come bambino mentre tu mangi noi siamo siamo invece sempre con Tony nell'ultima parte che lo riguarda abbiamo detto ha avuto una serie di apparizioni nel corso della sua carriera abbiamo parlato del teatro abbiamo parlato del cinema abbiamo parlato delle fiction dalla squadra come medico scientifica sul re 3 ha fatto anche figurazioni speciali anche nella fiction Capri con il regista Oldoini sì sì giusto qua che insomma erano tutte esperienze sai poi all'inizio io accumulavo e accettavo un po' di fare tutto hai lavorato con il regista Michele Memoli nel film Piacere Michele Imperatore quello lì è molto carino lo mandano in onda molte televisioni là c'era Biagio Izzo Fabio Fulco no fu pure una bella esperienza abbiamo detto prima abbiamo visto delle scene di Bartolo Longo che spesso su canale 2000 tv 2000 lo mettono in onda tv 2000 lo mettono in onda solo lì è andato in onda però anche molto tematico quindi è giusto che tv 2000 lo trasmetta spesso leggo anche che hai avuto un'esperienza con Carlo Fumo nel film vita amore e destino Carlo Fumo che abbiamo avuto qui l'altro giorno in diretta carissimo amico è da molto adesso che non ci vediamo fu pure un bel film con lui pure delle esperienze bellissime ho avuto con lui nel 2006 2005 amore amore come aspetta il film il film con Carlo Fumo è vita amore e destino molto bello pure lì io facevo il ruolo di un direttore di una fabbrica pure quella fu una bella esperienza mi ha fatto piacere che me l'hai ricordato e poi e poi e poi hai partecipato pure a figli di un solo padre che è un film del regista sceneggiatore Luca Guardabascio quello lì è un prodotto molto importante si vede in realtà la scena è una piccola foto un fotogramma è una di quelle scene sono in vedi sono in compagnia del compianto e del grande Flavio Bucci poi c'è anche in alcune scene anche Massimo Bonetti un carissimo amico e questo è un film che sta discutendo successo anche molto fuori Italia però tra breve penso ad aprile dovrebbe poi andare andare in onde nelle sale allora ricordiamo che Luca Guardabascio è un regista salernitano originario di Polla che però ha avuto un successo sta avendo un ottimo successo è un professionista insomma veramente bravo importantissimo con lui ho fatto anche un'altra esperienza un coltometraggio a me piace lavorare anche su tematiche sociali insomma credo in solo parte è una violenza sulle donne degli anni 50 tratta da un libro di uno scrittore di Buccino e quindi poi a me piace lavorare che io faccio quasi sono proprio un protagonista di questo coltometraggio che ha avuto dei premi all'estero parliamo di India Giamaica e quindi in attesa di venire di uscire in Italia e anche quel film lì mi piace lavorare è la tematica dei migrati sai che vengono sfruttati nei campi dei caporali come dicevi tu credi non solo padre che è stato girato per alcune settimane la masseria casella ed è stato tratto proprio dal libro senza far rumore di Michele Ferruccio Tuozzo che ha raccontato proprio una storia accaduta nel nostro territorio degli anni 50 storia di donne di omertà molto bello molto molto bello adesso che uscirà lo vedrai Tony tra l'altro ho letto anche che il film a cui abbiamo fatto riferimento proprio questo ha avuto anche al Salerno Film Festival premi come Best Director e Best Future Documentary sta prendendo dei premi stanno venendo dei premi tutti all'estero in attesa di arrivare in Italia finalmente ad aprile dovrebbe succedere qualcosa anche in Italia speriamo di avere quindi di poterlo anche vedere di poterlo ammirare almeno pure io ho queste soddisfazioni che sto avendo pure io però chiaramente è tutto all'estero e in Italia non si può vedere niente tu sei ancora giovanissimo alla tua non direi sei ancora giovanissimo sei ancora giovanissimo fosse nel fisico non nell'età sei ancora giovanissimo sei ancora giovanissimo come dire i sogni prima parlavamo di sogni nel cassetto che cosa devi ancora tirare fuori dal tuo cassetto in una carriera lunga fatta di brevi apparizioni o di protagonista che cosa ancora non si è visto dell'attore artista Tony Palma che vorresti invece mettere in campo infatti visto che inizialmente io purtroppo iniziai a fare poi un altro un altro lavoro insomma è anche fortunatamente per me però probabilmente il mio lavoro principale doveva essere l'attore però sai per fare questo devi cominciare da giovane però poi devi fare sempre quello continuare a fare quindi devi perseguire la strada avendo fatto questi black out ogni tanto riprende quello che ho avuto credo che il destino ti dà quello che poi devi avere tutti quanti non possiamo diventare penso che tu sei d'accordo o Ronaldo o tutti quanti Brad Pitt saremmo tutti quanti bene economicamente non ci sarebbe povertà quindi il destino segue le sue strade deve esserci la differenza vuol dire che probabilmente io dovevo fare questa strada qui oppure oppure chissà che ancora qualche strada ancora deve arrivare e poi darsi che il destino può darmi questa strada qui è ancora ad un'età avanzata spero con un bastone che non riesco più a camminare anche perché anche con il bastone avresti la tua figura però anche con il bastone potrei fare un ruolo e potrei fare un ruolo principale però in questo caso tu oggi hai un fisico un fisico di un ruolo che ti permette di fare dei ruoli che magari 30 anni fa non potevi fare perciò gli ho detto può darsi che il destino ti riserva ancora qualche cosa allora io vado vado avanti quello che il destino allora promettendoti promette questo faccio solenne promessa dopo la bastonatura Maria che mi ha dato all'inizio scherzosa che qualora dovessi fare qualcosa di importante o meno importante da qui ai prossimi 30 anni non aspetterò 30 anni per chiamarti no voglio facci una ragione se no davvero arriva col bastone spero di partecipare anche a qualche bellissimo spot pubblicitario eh anche perché per me è lavoro io devo lavorare pure io ma non perché ho delle necessità però devo lavorare ma noi abbiamo il nostro e gli spot pubblicitari sono io ne ho fatti parecchi in passato come sai però adesso non mi stanno chiamando più non ci sono più pubblicità no no ci sono però non chiamo ma noi abbiamo dei nostri valenti registi valenti e dolenti allora salutiamo Tony noi salutiamo Tony li ringraziamo per essere stato con noi perché è davvero un volto cinematografico non sento la voce no no ti sentiamo no dicevo io grazie volevo un piccolo chiederti un secondo per salutare un carissimo amico poi eventualmente abbiamo modo di parlarne qualche altra volta sono in un progetto molto importante sempre un bravissimo scrittore Luigi Piazzola di Torino che vuole trasformare un suo libro che è già nella Montadori storia di un'infanzia e mi ha scelto come protagonista insomma perché mi vede bene nel ruolo del padre e voglio salutarlo appunto perché lui ci teneva poi a sentire questa intervista e gliela manderemo eventualmente poi te lo farò conoscere pure a te perfetto in bocca al lupo in bocca al lupo ciao ciao buon amico playtag social web radio